Rossi in area di rigore, il pallone che finisce in area, Fazzio tira a go! 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 Per Strotman il tocco ottimo per Egeco, la palla verso Salah in area di rigore, Salah! 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 Go! Rilancio di Salah splendido per Tiago Perotti che si muove verso l'area di rigore da sola, Tiago! 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 Tocco per Tiago! Tira a go! 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 X di Leo Paredes, Buckel, poi go!